Eccolo qua, sì abbiamo avuto un attimo un salto di linea e eccolo qua Bandecchi con Santo Padre che si abbracciano e si salutano, andiamo proviamo Simo, Presidente, no sta difficile, Presidente una battuta la possiamo fare Paolo? Grazie Vice Presidente della Ternana Paolo Tagliavento che ci consente una battuta con Presidente Bandecchi, adesso saluta Alessandro Lucarelli che è il fratello naturalmente di Cristiano Lucarelli, non serve neanche che lo diciamo, ecco è più bello Alessandro di Cristiano, Presidente è raggiante, grazie Paolo, non è bene Presidente, ma l'ho detto che lei ha portato sei punti, adesso do un colpitelefono a Parma, a Parma glielo dico, con voi, però lei ha portato sei punti qua a me, due volte che è venuta, una battuta su questo derby, su questa vittoria, il derby è una partita che come tutti sanno meglio di me è fuori da ogni campionato, è fuori da ogni schema e quando andrebbe giocato un campionato a parte per i derby, il derby quindi non può essere valutato in quanto partita, ben giocata, brutto nel derby succedono cose strane, Iannarilli ha parato due rigori in due derby, forse c'è la maledizione di Iannarilli, penso veramente che i ragazzi del Perugia, scusate, si devono fare dei giusti scongiuri quando vedono Iannarilli, è andata bene per noi, è andata bene l'altro derby, ma il derby è una partita a sé stante, adesso facciamo 15 giorni di pausa e ripensiamo tutto il campionato. Santo Padre, abbiamo visto che ci ha parlato un pochino. Santo Padre è un amico, è una persona per bene, è una persona a posto, gli ho detto veramente una battuta, ho detto la caba la dice che prima o poi dovrà cambiare, io da quando sono presidente ho vinto e ho pareggiato i derby, quindi vi assicuro che oggi sono venuto, anzi vi faccio una battuta, ero venuto senza la mia scarpa e me ne sono accorta orte, sono tornato a casa e sono arrivato qua in ritardo infatti, finito? Grazie, grazie, voglio dire una cosa, io non ero manco superstizioso prima, c'è diventato, va bene.